Il testosterone è un ormone fondamentale sia per l'uomo che per la donna, ma senz'altro è più importante per l'uomo e di fatti è considerato l'ormone maschile per eccellenza. Mi ricordo proprio quando durante un corso con l'Istituto of Functional Medicine a Los Angeles l'endocrinologa che ci teniva un corso di endocrinologia ci aveva fatto vedere la donna con tutti i vari equilibri ormonali dove c'erano tutti i vari ormoni, testosterone, estrogeno, prolattina, progesterone, ossitocina e tutti questi ormoni dovevano essere in equilibrio per poter avere una buona condizione ormonale. Poi a un certo punto ho fatto vedere il pannello del controllo ormonale dell'uomo dove c'era testosterone on-off, nel senso che l'uomo funziona col testosterone e basta, in realtà non è vero, è una visione molto riduttiva, però è sensato, però in parte è vero che il testosterone in realtà è fondamentale per l'uomo, è quell'ormone che dà la potenza, il vigore sessuale ed anche quelle caratteristiche sessuali secondarie che sono per esempio lo sviluppo della muscolatura. Senza il testosterone non si possono costruire dei muscoli forti e grossi, però il testosterone è importante anche per altre funzioni, per quella cardiovascolare per esempio, il testosterone è importante per la salute delle ossa, il testosterone è importante per la salute mentale, eccetera, e di fatti con gli anni che passano, quando il testosterone si abbassa, più facilmente si va incontro a malattie cardiovascolari, a malattie neurogenative, malattie che riguardano il sistema osteoarticolare, eccetera. Cosa possiamo fare per migliorare i nostri livelli di testosterone? Senza dubbio noi possiamo intervenire con degli stili di vita che ci possono aiutare, l'attività fisica, soprattutto l'allenamento con i pesi, per esempio favorisce la produzione di testosterone, viceversa l'attività aerobica tende ad abbassare la produzione di testosterone, quindi questo ci può indirizzare verso un certo tipo di attività fisica piuttosto che un altro. Ma anche l'alimentazione, l'alimentazione è importante, un'alimentazione finalizzata a migliorare i livelli di testosterone deve essere un'alimentazione fondamentalmente abbastanza equilibrata, perché se per esempio noi abbiamo pochi carboidrati, noi abbiamo una insufficiente produzione di testosterone, così come se abbiamo un insufficiente apporto di calorie, una dieta ipocalorica, è abbastanza risaputo che se uno fa una dieta stretta ha meno stimolo sessuale, ma questo è anche un discorso che dal punto di vista evolutivo era importante per la sopravvivenza della specie, nel senso che se eravamo in un periodo di carestia dove non c'era a disponibilità un determinato apporto alimentare, non aveva senso riprodursi perché non ci sarebbe stato nemmeno abbastanza cibo per la prole. Quindi diciamo che il livello calorico è già un segnale che indica all'organismo se produrre più o meno testosterone, ma anche il livello di determinati macronutrienti. Per esempio, come ho detto prima, c'è bisogno di un certo livello di carboidrati, perché i carboidrati tra l'altro stimolando l'insulina, l'insulina fa sì che ci sia alla fine una regolazione a livello del sex hormone binding globally protein, che regola appunto la produzione del testosterone. Altrettanto i grassi. I grassi tra l'altro hanno la funzione di essere addirittura dei precursori del testosterone, perché i grassi come per esempio il colesterolo è addirittura la molecola base sulla quale viene poi formato l'ormone steroideo che è appunto il testosterone. E si è visto che l'alimentazione con un livello di grassi inferiore al 20% comporta livelli più bassi del testosterone, ma altrettanto vero che non bisogna invece cedere sui coi grassi, perché una dieta superiore al 40% dei grassi inficia leggermente la produzione del testosterone. Anche le proteine. Le proteine bisogna mangiarne a sufficienza. Bassi livelli di proteine, scarsa produzione del testosterone, quindi l'importante è l'alimentazione proteica, ma attenzione, se si supera l'1,8 grammi di proteine per chi gira di peso corporeo, allora a questo punto la produzione del testosterone viene diminuita. Quindi, come vedete, è importantissimo poter modulare in maniera corretta un'alimentazione finalizzandola alla produzione del testosterone o anche al fatto di avere più testosterone libero, piuttosto che testosterone invece legato all'albumina o alla SHBG e diventa quindi così un testosterone inattivo e di conseguenza mangiare in maniera corretta diventa importantissimo. e poi c'è tutta una serie di integratori, tutta una serie di integratori che veramente possono aiutare la produzione del testosterone.